Tiedone Lucrezio, un voto, Bovio Sergio, un voto, Campanale Giulia, un voto, Gopredo Ligia, un voto, Roseli Giorgia, 5, La Stella Gabriele, 1, Piccate Gabriele, 1, Mariano e Federico tra Cialdella Andrea, 1, Tiedone Giordano, 1, Mandigia, 1, Cagliardino, 2, Sì, è stato eletto presidente del consiglio comunale dei ragazzi. Grazie.